Ciao a tutti e a tutti, primo video del 2023! Io vi avevo lasciati con il racconto di quello che era stato per me il 2022 e vi avevo detto che nonostante avessi girato il video prima non mi aspettavo grandi sorprese da dicembre e così effettivamente è stato ma sono riuscita a realizzare un mio piccolo sogno e sono riuscita a spuntare un'altra cosa della mia personalissima e personale stra-personale wishlist della mia vita in generale ovvero incontrare i pinguini tattici nucleari che sono stati il mio regalo perfetto del mio trentesimo compleanno quindi questo era un video di come quella volta che ho incontrato i pinguini tattici nucleari che ovviamente non è stato un caso io ho compiuto gli anni il 2 dicembre per purissimo caso, è una cosa che io solitamente non faccio veramente per purissimo caso mi sono ritrovata a guardare le storie di Instagram dei pinguini tattici nucleari cosa che solitamente non faccio perché è raro che io mi fissi a guardare le storie delle persone solitamente le lascio scorrere cioè non ci perdo più tanto la testa perché dopo che sono successe determinate cose proprio nella mia vita proprio ho perso quel feed del voler vedere le storie delle persone a meno che non fosse proprio persone specifiche di cui mi interessava sapere cosa stessero facendo per purissimo caso mi pare il 25 e il 29 di novembre scopro che i pinguini tattici nucleari dovevano andare a Torino a fare l'in-store io per il mio compleanno avevo chiesto di andare a Torino a Torino ci abita mia zia quindi non saremmo stati io e mio padre tipo in mezzo a una strada ma saremmo andati da loro io ho chiesto questo regalo di compleanno praticamente da quando sono tornata dalla stagione ovvero il 26 di settembre io il 26 di settembre dopo che mio padre mi ha detto determinate cose gli ho detto perfetto andiamo a Torino il 2 sapendo che il 2 era un venerdì quindi comunque c'era un weekend di mezzo fatta so che praticamente arriva dicembre e quindi noi dovevamo partire per Torino il caso ha voluto il caso, proprio il caso ha voluto che l'album dei pinguini tattici nucleari il nuovo fake news uscisse proprio il 2 il giorno del mio compleanno quindi leggo questa storia che appunto diceva che i pinguini tattici nucleari avrebbero fatto degli in-store in determinate città italiane partendo da Bergamo che è la loro sede perché loro sono di Bergamo andando poi a Torino poi a Bologna poi a Roma e infine a Milano quindi facendo queste piccole tappe per il nord centro Italia al sud manco cioè cioè ma che è ma veramente venite al sud ma perché vabbè lasciamo a perdere se venite a Lecce io ci sono vi porto un pacco di tagalli ma che detto leggo questa cosa e dico guarda scendo le scale dico papà vengono i pinguini a Torino tipo super mega esaltata perché io non li ho mai visti né in concerto né dal vivo né niente quindi ho detto ok perfetto manco a farlo apposta noi siamo a Torino i due giorni mi portate a vedere l'in-store dei pinguini taccini e basta e poi ce ne andiamo il giorno dopo infatti io sono stata a Torino dalla sera del 2 fino alla mattina del 6 praticamente sono tornata il 6 pomeriggio il 6 mattina tardi quindi il caso ha voluto che io mi trovassi lì in quella precisa sede l'in-store era nel cinema del lingotto il 5 il pomeriggio alle 6 quindi cosa faccio compro il cd il 3 ovvero il giorno dopo perché il 2 dovevo andare alle 11 di sera vado a comprare il cd in centro a Torino alla Feltrinelli che sta in piazza se non ricordi meno male che mio padre si è conservato allo scontrino meno male che se l'è conservato fatto sta che praticamente io compro questo cd mi presento il giorno fatidico e scopro che bisognava avere il pass per poter entrare vado alla Feltrinelli che era accanto al cinema ma qua il cinema qua la Feltrinelli vado e entro senti mi dai il pass e loro mi fanno no devi comprare il cd qua e io ma ce l'ho l'ho comprato due giorni fa a centro Torino no ma lo devi prendere qui c'è un momento di rabbia da parte di mio padre che inizia a sclerare malissimo e dice ma com'è possibile così veniamo da Taranto bla 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 fatto sta che praticamente arriva un'altra responsabile della Feltrinelli mi fa guarda parla col collega che sta all'ingresso e vedi se ti fa entrare io entro quello della Feltrinelli c'erano tipo tre guardi chiamiamo le guardie davanti che facevano entrare le persone che avevano il passo io vado davanti con un scontrino da un lato cd dall'altro e faccio senti io sono venuta da Taranto a posto mi sono fatta 1098 km per poterli vedere mi fai entrare mi fa dove hai comprato il cd ho fatto l'ho preso ho andato a x y questo è lo scontrino qua c'è il cd ok entra io molto diplomaticamente senza parlare senza niente senza piangere senza nient'altro prendo e entro quindi cosa succede che io riesco ad entrare e aspetto quasi tre ore e mezza perché mia zia ovviamente oh mio dio è tardi arriviamo all'ingotto alle 4 l'incontro era alle 6 loro sono arrivati alle 6 e mezza quindi ho aspettato due ore e mezza senza fare niente dentro al cinema dell'Utg quindi io finalmente riesco ad entrare aspetto bla 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 vabbè arrivano loro alle 11 non alle 11 sì alle 6 e mezza e cosa succede fanno una breve presentazione salvi qui da cicliare uscite il nostro cd qual è la vostra canzone preferita tutte quante queste cose ci mettiamo a cantare Giovani Wannabe bellissimo momento l'ho anche ripreso nonostante Giovani Wannabe a me non piaccia come canzone perché la trovo estremamente commerciale quindi che succede che si procedeva per file eravamo in un cinema quindi eravamo divisi per file e ogni fila andava faceva il firmacopie e se ne andava prima fila seconda fila terza fila io ero la sesta fila e c'erano tipo o 16 o 17 file occupate quindi immaginate quanta gente c'era arrivavamo intorno alle 250 persone per essere un istore ovvero un semplice filmacopie non un concerto eravamo comunque tanti e la cosa che invece mi ha fatto più piacere è che non c'erano solo ragazzini che li conoscono da quando è uscito Aya quindi da Pastello Bianco o al massimo da quando li hanno visti a Sanremo che hanno cantato Ringo Starr ma c'erano persone molto più grandi che li conoscevano da quando è uscita Gioventù Brucata o ancora peggio da quando è uscito Errei Nudo o ancora di più da quando è uscito Diamo un calcio all'aldilà che è stato il loro primo effettivo album a meno che non abbia sbagliato la cronologia e quindi viene prima il Re Nudo e poi diamo un calcio all'aldilà comunque ma non credo di averla sbagliata e questa cosa mi ha fatto estremamente piacere a un certo punto tocca a me quando tocca a me praticamente c'erano la fila delle persone il tavolo dove stavano messi loro in fila e il primo che tu incontravi appena ti avvicinavi era Elio io mi avvicino e lui mi fa benvenuta la prima cosa che dicono neanche ciao è mi sono fatta 1028 dico invece di 98 km per potervi vedere io vengo dalla Puglia Elio e Nicola e Lorenzo mi guardano perché c'erano Elio, Nicola e Lorenzo poi c'era Riccardo poi c'erano Simone e chi stava dopo e Matteo non mi veniva il nome c'era Matteo Matteo e Simone Simone era l'ultimo poi c'era Matteo poi c'era Riccardo poi c'era Lorenzo Nicola e poi c'era Elio ok si mi ricordo vabbè fatto sta che mi avvicino dico questa cosa a Elio Elio, Nicola e Lorenzo cioè quasi felici mi dicono però hai preso l'aereo io sì sì ho preso l'aereo non vi preoccupate faccio il giro da dietro mi avvicino a Riccardo mentre stavo firmando la mia copia li faccio comunque a Riccardo mi avete fatto il regalo più bello perché avete fatto uscire l'album proprio il 2 dicembre il giorno in cui ho fatto 30 anni quindi sono estremamente felice di questa cosa li faccio vedere il tatuaggio che c'ho sulla caviglia stavo così per cadere perché ovviamente io ce l'ho un po' più alto rispetto a dove scendeva il pantalone gliel'ho fatto vedere lui mi fa ma do grazie 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 perché ovviamente tutti loro ringraziano i fan che ci sono andati grazie 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 poi li dico a questo tatuaggio ci vorrei aggiungere una frase di Irene perché per me Irene è la mia preferita e lui mi fa ma sei un Irene cioè tipo ti chiami Irene e io no mi chiamo Giulia e lui eh ma c'è anche Giulia come canzone io no Irene per me è insuperabile è bellissima e non la batterà mai nessuno e lui mi fa ok va bene ho capito Irene e poi mi fa vabbè stavo continuando a firmare i miei abbraccia e io questa cosa non la metabolizzo neanche cioè dopo ho capito che mi stava abbracciando ci siamo fatti la foto che poi ha fatto il fotografo che tra l'altro io ancora devo vedere perché non l'ho vista e dopo un po' eh vado vicino a Simone e Matteo che stavano alla fine e gli dico comunque la mia canzone preferita dell'album è Cena di classe che tra l'altro c'è in questo momento allora Simone e Matteo quasi contemporaneamente dicono ok allora hai fatto tutto insieme nello stesso momento perché proprio in quel momento in cui io stavo andando a fare la firma della mia copia c'era Cena di classe che è la mia preferita di tutto l'album che tra l'altro è l'ultima ovvero la quattordicesima per chi ha comprato il cd fisico sa che ci sono quattordici canzoni per chi l'ha sentito solo su Spotify sa che ce ne sono tredici quindi finisce questa cosa che dura tipo trenta secondi cioè tutto troppo veloce perché ovviamente eravamo tantissimi quindi non potevamo farlo tutto il tempo alle persone io esco dalla sala del cinema alle otto meno dieci un sacco di gente gli ha portato regalini, pensierini letterine io no avrei voluto dirgli tante cose ma non ce l'ho fatta quindi per ovviare il problema ho scritto un messaggio lunghissimo ad Elio che sembra essere l'unico che risponde ai fan Elio ti voglio bene è stato dolcissimo super gentile tra l'altro mi ha anche risposto e mi ha detto grazie questo è stato il mio messaggio a Elio tutto questo messaggio la la sua risposta e l'altro mio messaggio sotto ce ne sono due questo non so perché è uscito grigio e amici di blu comunque sì tutti questi fantastici messaggi lui mi ha risposto dicendo siamo felici di averti lasciato un segno così bello perché ovviamente gli ho detto che li conosco dal 2017 che dal 2017 che sogno di incontrarli e sono stati i primi cantanti effettivi che io abbia mai visto e loro sono stati i primi che io sarei riuscita mai a vedere e a Elio questa cosa gliel'ho detta e ho detto tra l'altro che io ho dedicato un tatuaggio che per me è una grande cosa come vabbè non gliel'ho detto però un'altra cosa che io ho lasciato impresa su di me ecco forse è l'unico cantante singolo a cui effettivamente mi si è affezionata e Cremonini dall'album di Squares da quanto è bello andare ok e c'è scritto Calidoscopio sul braccio che oltre ad essere una parola che si trova nella frase di Cesare Cremonini ha per me tantissimi altri significati quindi forse veramente gli unici due a cui ho dato un significato a livello proprio di artisti sono stati loro ovvero i Pinguinitazzi Nucleari e Cremonini poi vabbè c'è anche scritto Roller Coaster che è il titolo di una canzone dei Bleachers che è una delle canzoni di 13 per chi non ha mai visto la serie andatevela a recuperare è su Netflix quindi c'è tanta musica sul mio corpo attualmente però veramente loro due quindi sia Cesare Cremonini sia Pinguinitazzi Nucleari hanno veramente dato un segno importante e io sarei tanto voluta andare a vedere anche il concerto di Cremonini ma per ora non ho visto né uno né l'altro però sono andata a vedere loro e hanno fatto l'instore mi hanno autografato la copia e ripeto è stato il regalo più bello che io potessi mai avere e sono molto molto felice di questa cosa e credo che sia stata la cosa migliore che in questo dicembre un po' più potesse succedere perché erano tipo quattro anni che mi hanno rovinato e distrutto dicembre che è il mio mese preferito in assoluto dopo di sempre hanno sempre tentato in qualche modo di sgretolare ogni mia certezza e ogni mia cosa felice che succedeva a dicembre e invece no ci sono finalmente c'è stata finalmente questa cosa che ha un po' svoltato tutto perché 2018 è andata come è andata 2019 è peggio che andare di notte 20 e 21 è stata la pandemia quindi almeno il 2022 diamogli un po' di quindi credo che l'unica cosa bella effettivamente che sia successa in questo 2022 a dicembre togliamo tutti gli altri mesi perché le cose sono andate bene fino a ottobre novembre lo potrei proprio cancellare dal calendario per come è andato male dicembre grazie a dio riuscito a risollevarsi con il fatto che io abbia appunto incontrato i pinguinitattici nucleari e ripeto sto girando questo video il 10 di dicembre dal 10 al 31 secondo me non succede niente ma non diamo mai limite alla providenza e ovviamente questo video quando lo vedrete sarà anche passato tutto dicembre quindi ok però ringrazio veramente loro per il mega regalo che mi hanno fatto il fatto che io sia potuta andare a Torino quindi ovviamente ho ringraziato mia zia perché mi ha ospitata e vabbè mio padre me l'ha fatto proprio come regalo quindi pagato il biglietto tutto quanto io sono veramente contenta di questa cosa perché ripeto sono riuscita a spuntare un'altra parte della mia wishlist personale quindi se poi riesco ad andare anche a un concerto tanto ti ho guadagnato ma per ora sono riuscita a incontrarli li ho visti da vicino ci ho parlato che fosse anche meglio dell'andare a un concerto perché a un concerto li vedi da lontano non hai detto che tu possa capitare in prima fila quindi a un concerto vedendoli da lontano non è per niente la stessa cosa dell'avvicinarti parlarci abbracciarli lasciarli anche qualcosa ma non l'ho fatto anche se avrei voluto e giuro che la prossima volta se mai li dovessi rincontrare gli porto un pacco di taralli pogliesi bene ragazzi e ragazzi il mio video è finito ci vediamo spero la prossima settimana con un'altra storia da raccontarvi me lo auguro e niente io spero che questo video vi sia piaciuto spero che anche voi condividiate la passione che ho io per loro se non la condividate non fa niente noi ci vediamo ripeto la prossima settimana quando probabilmente spero di aver tolto anche le luci di Natale ma non credo perché ciao ciao